Eccoci qua a darti alcuni consigli sulla ricerca del tuo abito. Parliamo di budget. Il budget è l'importo massimo di spesa che tu ti sei prefissata per il tuo abito da sposa. È importante comunicarcelo, comunicarcelo in anticipo, in modo che durante la prova, che può durare da un'ora a un'ora e mezza, noi possiamo presentarti e proporti, in modo che tu possa provare, solo abiti che rientrano nel tuo budget massimo, in modo che la scelta non venga condizionata dal prezzo. Tu non debba provare degli abiti troppo costosi che poi magari non riesci ad acquistare, in modo che tu vai a scegliere un abito che è l'abito dei tuoi sogni, che rientra nel tuo budget di spesa e ti rende felice.